arte di cichi ciao bambini guardate è il nostro simpatico amico peloso un cane disegniamo inizia con la faccia e ora il corpo e le zampe anteriori facile e divertente un bel naso e gli occhi grandi disegniamo un delizioso regalo per il nostro amico non dimenticare le orecchie e non dimenticare la coda termina con un bel contorno pulito fantastico e adesso coloriamo colore beige per il nostro cane continua così ciao piccolo amico ciao 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 adesso sul corpo i cani non sono anche i tuoi preferiti più ciao 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 Coloriamo il suo orecchio con il marrone. E anche l'altro. Per il naso, un marrone scuro. E anche per la coda. Sì, tutto fatto! Non è il cagnolino più bello?